Dalla parte cittadina di agosto abbiamo scelto San Mettro e il Tronto anche perché il collega Porfiri luglio lo ha fatto col sindaco Guido Castelli e visto che c'è questo anche ottimo rapporto tra i due comuni sentiamo anche San Benetto, le cose belle e le cose brutte partendo un po' sindaco da quelle che sono i problemi di sempre, la sanità, l'ordine pubblico però anche cose belle che abbiamo visto in giro per queste ultime cose non inaugurate però alla portata dei cittadini residenti ma anche villeggianti Sì, abbiamo riaperto il pennello che è un'oasi verde a disposizione dei cittadini io ieri sono passato per rendermi conto e veramente c'è stata un'ovazione da parte dei cittadini sanmettesi ma anche e soprattutto dai nostri ospiti che credono di vivere in una cartolina, è veramente bello San Benedetto in questi giorni al centro del mondo, veramente una città capofila che è riuscita a catturare con le sue bellezze, il termine adatto, con le sue bellezze, con le sue iniziative, con le sue risorse tanti cittadini, ricordo che pochi mesi fa tutti eravamo giustamente preoccupati del ritorno negativo che poteva avere il terremoto che aveva colpito le zone circostanti invece tutti siamo stati bravi, non soltanto l'amministrazione comunale ma tutto il tessuto sociale, imprenditoriale lasso albergatori, tutti i ristoratori, le associazioni a far capire che questo era un territorio sicuro e che anzi questo evento luttuoso aveva cementato un'amicizia, un rapporto per cui noi vendiamo un territorio e vogliamo che le persone che vengono a San Benedetto tornino a casa con una emozione che poi diventa passaparola e che avrà un ritorno sicuramente escezionale per i prossimi anni Per quanto riguarda Sindaco, quello che dicevo prima sulla sanità e sull'ordine pubblico si sta facendo qualcosa per quanto riguarda le famose telecamere circuito chiuso la movita che purtroppo non si riesce a arginare, questo è un problema che hanno molte città dove c'è il movimento giovanile e anche sulla sanità, come sai, questo problema che ancora non si sa ospedale di San Metto, ospedale di Ascoli, queste due eccellenze che non riescono ad emergere perché purtroppo anche la Regione Marche un tantino non diciamo che ci ha dimenticato ma ci ha messo da una parte Regione Marche tenta, uso una metafora calcistica, tenta di giocare per lo 0-0 cercando di creare una situazione per cui Ascoli e San Benedetto da sempre, un derby, si facciano del male da soli io e il sindaco di Ascoli questo l'abbiamo capito e quindi non ci facciamo la guerra ma vogliamo che questo territorio abbia quel ritorno che ha avuto il nord delle Marche perché se è vero come è vero che la mobilità attiva riguarda proprio questo territorio, sicuramente lo fa da padrone anche la sanità privata, vuol dire che c'è un'attrazione verso questo territorio, perché non sfruttarla come sanità pubblica quindi è qui che ci batteremo quindi bando ai campanili, naturalmente nessuno di due deve fare il furbo perché se il sindaco di Ascoli dovesse insomma in qualche modo non mantenere i patti io sarò il primo a ergere le barricate ma così non è, non sarà, non credo che sarà, non mi faccio incartare sul discorso dell'ospedale unico benvenga quando sarà e quando mi diranno dove prendono le risorse altrimenti diventa la foglia di fico per non parlare delle carenze che subiamo da anni se con le passate amministrazioni di centro-sinistra la regione ha potuto fare collusione sappia, e glielo ho detto in faccia a Cericioli, l'ho detto ad Alessandro Marini che è il direttore l'ho detto anche alla direttrice Giulietta Capocasa ci mancherebbe altro massimo rispetto ma io difendo i miei cittadini che detto per inciso pagano le stesse tasse che paga un pesarese o un anconitano ma non ha lo stesso ritorno questo è il concetto, chi c'è c'è, chi non c'è è guerra Sindaco auguri, buon feragosto a lei a San Benedetto anche perché vediamo che come dicevi tu ci sta un po' in qualcosa di bello, il bel tempo e ha riportato anche tutti quei turisti che forse anni passati ci guardavano un po' con una certa apprezzione abbiamo rivisto tante persone che non venivano da anni è vero, io non mi voglio prendere tutti i meriti ma siccome questo succede dopo 14 mesi dell'amministrazione Piunti evidentemente un cambio c'è stato e io ne vado fiero buon feragosto a voi